Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo il libro Apprendista saldatore, autore Massimo Cassano, editore di Brissandit. È un libro di oltre 120 pagine. Vediamo alcuni contenuti. Basi di meccanica d'officina per l'apprendista saldatore, cenni basilari di saldatura per l'apprendista, metrologia d'officina per saldatori principianti, basi di elettrotecnica generale, norme di sicurezza nelle officine di saldatura, cartellonistica, segnaletica e dispositivi di protezione, glossario tecnico per l'apprendista saldatore. È un volume ricco di immagini, molto pratico e utile a tutti coloro che vogliono apprendere la tecnica e l'arte della saldatura. Vi ringraziamo per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. Grazie a tutti.